I rincari che si sono susseguiti negli ultimi tempi, soprattutto quelli energetici, hanno generato un aumento delle tariffe e degli affitti, elemento che ha impattato sugli studenti universitari. Secondo il rapporto pubblicato da Immobiliare.it Insights, i prezzi delle stanze singole sono aumentati dell'11% rispetto al 2021, con una media di 439 euro sul territorio nazionale. Questo ha spinto i giovani verso città a misura d'uomo, come Cremona, dove grazie ad un'offerta formativa, ampia ed articolata, nonché a corsi unici in Italia, si registra un boom di presenze negli Atenei e anche negli alloggi. Le residenze gestite dalla Diocesi sono già al completo per il 2022-2023, con liste d'attesa, conferma Don Maurizio Compiani, responsabile della pastorale universitaria, che spiega come la Diocesi abbia di conseguenza attivato tre nuove realtà per il prossimo anno accademico. La parrocchia di Sant'Ambrogio ha sistemato un appartamento che ha nel convento di Sant'Ambrogio dove ci sono sei posti per studenti. Abbiamo poi la cosiddetta Casa Sant'Angelo, che è gestita in verità dal seminario, e qui abbiamo una quindicina di posti. E a giorni viene inaugurata Casa San Faccio, che è gestita dalla Caritas. Si tratta di una palazzina di nove appartamenti, tra i 25 e i 30 posti in letto. Le strutture, inoltre, propongono prezzi calmierati rispetto alla media nazionale, nonostante le difficoltà del momento, con lo scopo di agevolare le famiglie. Per stanza singola al mese si chiedono 200 euro più spese a Sant'Ambrogio, 200 euro spese comprese a Casa Sant'Angelo e 350 euro al mese più spese a Casa San Faccio. Casa Sant'Angelo sta inoltre cercando di realizzare una mensa per gli universitari.